I finalisti del Grande Fratello Vip Imposa per la Fabbrica del Sorriso è nel segno della beneficenza l'ultima prova dei sei concorrenti rimasti in gara nel reality show di Canale 5. Gli inquilini della casa più spiata d'Italia sono stati impegnati nella realizzazione di un calendario, il cui ricavato sarà devoluto all'associazione che si batte contro i tumori infantili. Nel comunicato, gli autori del programma televisivo hanno precisato che ogni concorrente sarebbe stato il testimonial di due mesi ragionate su abiti, accessorie e sui luoghi della casa che faranno da sette per il servizio fotografico. Dopo essersi confrontati, i Vip hanno scelto mesi e ruoli da interpretare. Raffaello Tonnon, ad esempio, ha deciso di cimentarsi nella Befana per il mese di gennaio, e di rivisitare in maniera sarcastica la ricorrenza dei defunti per rappresentare novembre. Daniele Bossari ha indossato i panni dello scolaretto per il mese di settembre, mentre la modella cieca Ivana Marazzova ha rappresentato la primavera attravestendosi da coniglietta, dalla Befana Tonnon al bagnino Onestini. Luca Onestini ha posato in costume e si è trasformato in un sexy bagnino impegnato nel salvataggio dell'amico Raffaello Tonnon. L'extronista ha dato vita all'adun simpatico siparietto con l'opinionista milanese. A far sgranare gli occhi ai telespettatori del GF Vip, però, ci ha pensato Aida Iespica Video. La venezuelana si è cimentata in ammiccanti scatti da casalinga Jose per il mese di marzo, e inoltre ha messo in mostra tutta la sua sensualità travestendosi da babbo natale con gambe e scollatura in bella evidenza. A contribuire a far alzare la temperatura in casa ci ha pensato Giulia Delellis, che ha immortalato la modella 35enne in svariate pose vicino all'albero di Natale. Le confidenze piccanti della showgirl nel corso della sua avventura nel reality show di Canale 5, la Iespica ha conquistato il pubblico per le sue docce bollenti e di sensuali balli con Jeremias Rodriguez e Daniele Bossari. Quest'ultimo ha condiviso per una settimana il centro benessere con la venezuelana che ha ribattezzato Temptation Aida. Tra una conversazione e l'altra, la modella ha confidato al compagno di avventura di aver fatto sogni molto piccanti, lasciando quasi a bocca aperta il conduttore televisivo. Per restare aggiornati sulle news del Grande Fratello Vip Video potete cliccare il tasto Segui posto in alto, accanto alla firma dell'autore dell'articolo. Aida Iespica Aida Iespica Aida Iespica